Ciao amici, sono Edoardo Tarantini e queste sono 5 curiosità su di me. Prima curiosità, sono arachnofobico. Che vuol dire arachnofobico? Che non è che mi fanno paura i ragni o mi fanno schifo, mi danno proprio fastidio, cioè se io vedo un ragno mi sento a disagio. Seconda curiosità, io mangio di tutto, cioè mi piace tutto, tranne i cavoletti di Bruxelles che odio. Il genere di film che mi piace, no, uno dei film che mi piacciono di più sono i film horror. Quarta curiosità, ho un cane che si chiama Guendalina, è un chihuahua, a cui sono molto legato, in generale io adoro gli animali. Quinta curiosità, a scuola la materia che mi piace di più è italiano in generale e infatti il prossimo anno andrà al liceo classico.